Ecco, inspiro, ricevo. Evo, esperta di arte marziali che ci riporta nel magico mondo d'Oriente con i samurai e con il brano Dindog. Il principio vitale. Ricevi il principio vitale, pecora, mentre stai in prigione. L'edera, canta al comare. E quindi sorrido tutti i muscoli del viso. Sorridi, pecora, che sei libera. Quando mi sveglio, la prima cosa che faccio è metto la bocca proprio a forma di sorriso. Il sorriso. Sì. Cerco sempre di assumere, e ti sento una deficiente. E' una naturale conseguenza. E poi immagino di avere vicino a me una specie di corona. Verticalizzandosi. Verticalizza di pecora. Sono re della mia vita. Diventiamo nello stesso tempo un re. Si verticalizza verso l'alto. E' una regina. Io sono regina, sono re della mia vita, qualunque essa sia. Se facciamo questo. Se facciamo questo. Stiamo diventando madri di noi stessi. Con questa. Fatality. Ma t'ha steso. Ha vinto, insomma. Leggendo decine e decine di libri sulla legge dell'attrazione, The Power, The Secret, Osho. E li ho interiorizzati in questi anni, no? Essendo molto, non so, come dire... Ha molto a che fare poi con le filosofie orientali. Sì, ma anche con quella navoletana. That's what the new age really is about, is people awakening to their own divinity. Do you think we are? Oh, yeah. Libero in questo senso. Ed è libero anche di trasformare il mondo. L'uomo è libero di trasformare il mondo. Capito? A bocca, a bocca. E basta avere pensieri negativi. Essere nati in quest'epoca è un dono prezioso. Mamma mia, che non lo siano. Pensate sempre cose positive, perché le cose positive il cielo le raccoglie e ve le rimanda. Cioè, sappiamo di cosa parliamo quando diciamo che crediamo o non crediamo. Eh, dimmelo tu dai, dimmelo tu. Il cielo raccoglie quell'informazione e vi arrivano altre cose negative. Qualcuno ha un'idea un po' concreta, esperienziale del mistero divino. Potresti tu portare in studio una Bibbia? Io portare in studio una Bibbia? No, la Bibbia la tengo sul mio comodino e ne faccio l'uso che voglio. Credere o non credere in questa cosa che in fondo non sappiamo nemmeno molto bene cosa sia. Siccome noi siamo fatti di energia e il cosmo è tutta energia E l'assuncio è una grande energia Noi siamo l'universo L'importante è che la tua energia che va verso l'universo sia positiva. Siamo una forma materiale dell'universo, ognuno di voi. Perché poi, andando all'universo, ritorna. E' stato il cristianesimo mettere al centro l'individuo, prima della comunità. Tant'è che Rousseau dice che i cristiani non possono essere dei buoni cittadini. Capito? Rousseau, ragazzi. Rousseau era quello che mettono anche nel Movimento 5 Stelle, no? C'è un malato ovviamente, tipo loro, che è stato scelto come filosofo e che diceva che noi abbiamo cambiato il mondo con la rivoluzione francese. Che in realtà non è cambiato niente. E non lo possono essere. Lo possono essere di fatto, ma non di diritto. Perché per loro, a qualche conto, è salvare l'anima. Non la comunità. Non la comunità. Io vorrei parlare da studente che io praticamente vivo tutti i giorni a scuola con ragazzi che vengono da nazionalità diverse. Mi sento prima cittadino del mondo e poi italiano. Sono appena morto. Appena alzata fai il saluto al sole. Basta cambiare forma di pensiero. Per me e per chi crede come me esiste, chiamiamolo Dio Gesù, come volete voi, un'energia superiore. Una grossa energia superiore. Sometimes it's called a life force, sometimes literally called the force, as it was in Star Wars. Esiste la fede, la fede vera, in un'energia superiore pura e pulita. The whole new age movement comes right out of Hindu, Buddhist, occultism. What is the basis for all of this information? I've never heard this before. The teachings were brought forth from Tibet through Alice Bailey and Blavatsky by a member of the hierarchy whose name is D.K. Jwal Kul. Pezza che finezza, questa di parte di gente di 5.000 anni fa, che ti diceva che il prana, ovvero l'energia... Sometimes it's believed to be prana, a hindu term for a divine essence that permeates all of us. Quella specifica era l'energia del fulmine. Cioè questi avevano capito che erano gli elettroni. Erano fulminati. Senti, scusa mi hai dato, ma l'energia per le palle? Invece non ce l'hanno detto, è stessa roba. Allora, l'energia per le palle si chiama la panna. No, per sesso, tu pensi solo a quello. Le palle, le senzioni di coraggio, vanno in atto. Ah, vada a cazzo stupendo.